Nel cuore delle antiche tradizioni Zen, esiste una storia che cattura l'essenza della meditazione mindfulness. Questa storia, conosciuta come il fiore di loto, è un racconto ispiratore di consapevolezza, calma e trasformazione interiore. In un mondo sempre più affollato e frenetico, la ricerca di pace interiore e serenità ha portato molti a scoprire la bellezza della meditazione mindfulness. Unisciti a noi mentre esploriamo questa storia Zen, che è diventata un'ispirazione per coloro che cercano la pace nei momenti di turbolenza. C'era una volta, in un remoto villaggio tra le montagne, un saggio anziano noto per la sua serenità e saggezza. La sua pace interiore era palpabile per chiunque lo incontrasse. La gente si chiedeva qual era il segreto di quella tranquillità. La risposta giaceva nella pratica quotidiana del maestro. La meditazione mindfulness. Il maestro aveva un devoto discepolo che lo osservava ogni giorno mentre meditava. Un giorno, il discepolo si avvicinò al maestro e chiese. Maestro, come raggiungi tanta serenità nella tua vita? Il maestro sorrise e rispose. Vieni, seguimi. Il maestro portò il discepolo in un tranquillo giardino Zen. Lì, indicò un fiore di loto che galleggiava in una piccola vasca d'acqua. Disse al discepolo di concentrarsi solo su quel fiore e ignorare tutto il resto. Mentre il discepolo fissava il bellissimo fiore, gradualmente iniziò a sentire i suoni della natura circostante, a percepire il vento che accarezzava la sua pelle e a sentire una profonda sensazione di pace. Dopo un po', il discepolo si voltò verso il maestro con gli occhi illuminati. Ho capito, disse. La meditazione mindfulness significa essere pienamente presenti nel momento, accettando tutto ciò che si presenta senza giudizio, e trovando la calma nel caos della vita. Il maestro annui e disse. Hai compreso il segreto. La meditazione mindfulness è la chiave per la pace interiore. Il discepolo iniziò la sua pratica di meditazione mindfulness con zelo. Con il tempo, divenne anche egli noto per la sua serenità e saggezza. La storia di questo maestro e discepolo ispirò molte altre persone a intraprendere il viaggio verso la quiete interiore attraverso la meditazione mindfulness. Questa storia ci insegna che la meditazione mindfulness ci aiuta a essere pienamente presenti nel momento, ad accettare la realtà senza giudizio, e a trovare la calma dentro di noi. È un viaggio che può portare alla serenità, all'equilibrio e alla saggezza. Ognuno di noi può trovare la pace interiore attraverso questa pratica, così come il maestro e il discepolo in questa storia. Se questo contenuto ti ha aiutato a comprendere meglio, quanto importante può essere la meditazione mindfulness nella tua vita. Allora iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per sapere quando i prossimi video saranno online. Lascia un mi piace, un commento, condividi la saggezza e a presto. Ciao! 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 Ciao!